salve a tutti benvenuti a buttare questa serie su fifa 20 siamo qua a noi usate per la tosse ci sono in due che ci penserò raducano ci penserò ok detto questo andiamo a farci questa conferenza stampa io mettiamo qua giochiamo ci giochiamo la semifinale semifinale cambiamo qualcosa dobbiamo pensare a giocare bene e montiamo abbiamo vabbè e ho troppo spavaldi veniamo da una partita dell'andata che si sta mettendo bene inizialmente poi diciamo se un po' se un po' complicata dobbiamo cercare segnare più possibile dobbiamo cercare di segnare il più possibile per raggiungere questa agognata finale che non è non è affatto facile con loro con loro io direi allora partita gestione squadra siamo tutti e tutti a posto va bene signori andiamo in partita dai ragazzi dai ragazzi dai ragazzi dai ce la possiamo fare ce la possiamo fare ce la possiamo fare se parte la partita ovviamente se c'è un gioco decidi di caricare che la possiamo fare aveva facendo cose morsa saide ok a tempo tira devo fare col col giusto con tutto che ho levato il time shot coso perché l'ho levato è una cosa brutta che complica inutilmente il gameplay secondo me siamo in diretta dal parco dei principi del gioco che cade incessante su pari nel play normale comunque signori abbiamo un minimo vantaggio che però non ci consente di stare tranquilli non ci consente affatto di stare tranquilli come ho detto come ho detto come ho detto la scorsa puntata anche questa come quella di prima la gioca solo solo questa partita ma voi la vedrete in versione integrale perché si perché insomma ormai ormai sono le ultime partite sono tutte decisive è giusto anche dare in questo modo la giusta importanza a delle partite che possono valere una stagione intera bravissimo ok ecco la formazione della squadra ok bene detto bov uh uh dalla dalla di là vai in the men's in the men's in the men's in the men's niente ancora angolo va bene va bene va bene va bene va bene va bene primo pa e qua in the men's eh niente eh niente ok no ok va bene boris boris prova il giro boris ho cercato un po' troppo mi sa vabbè fa niente dai dai signori oh dai 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 eh la porca miseria no 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 fuori era fuori era fuori ho provato tutti i tasti possibili ma non vabbè no 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 and via no no yeah meno male meno male meno male qua è brutta qua è brutta manda via oh non è no bravissimo adesso ripartiamo e ci ripartiamo vabbè jesus 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 di là oh no caduta che spassava si spassava l'ha lanciato in porta caccio giocato ne ho lanciato quel di lanciato no 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 ieri 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 manda via bravissimo ci stiamo soffrendo in una maniera maledetta 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 signore dobbiamo reagire eh andiamo avanti così prima o poi segnal prima o poi segnal andiamo avanti così andiamo avanti così prima o poi segnal bravissimo va bene va bene va bene dobbiamo reagire anche in un bel contropiede no 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 perché non la blocchi perché non la blocchi perché non la blocchi perché non la blocchi ok vai schemini 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 bravo no 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 appoggia di qua beretti il tiro da me da me da me nel primo paro in the men's poi di testo ma che mamma mia ma mamma mia ma che che testa c'avete tutti quanti testa di pongo eh che caspita ma che tu ma che no 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 ok bravissimo ok ripartiamo qui qua diragliela eh sì vabbè già dove vai dove vai dove vai eh no 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 ma bloccane una bloccane una maledetto bloccane una e che stanno facendo questi non ma no mandali ole mamma mia stiamo soffrendo spicci voi voi due anni e mezzo per stopparla jesus cambia il porca miseria tre anni e mezzo per stoppartela ah perché passala eh vabbè devo uscire devo perdere sta partita per caso perché comincio a vedere cose che non vanno tipo i miei giornatori che non reagiscono loro che loro che corrono indemoniati i miei che non reagiscono ai comandi deve succedere questo deve succedere questo deve succedere questo dimmiato poi pace e metto punto a me oh che dove perchè oh talla e e e e e e e e bene e e no vabbè no vabbè non è possibile non è possibile non è possibile puttana la miseria ah 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 no e e e e e e e e ma no e ma via poi vedi va bene va bene no 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 è brutta no è brutta no è brutta è brutta è bruttissima situazione brutterrima che vede scusate scry doud scussati no get down è una canzone come chiedon spiacevole però no 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 bravissima redetti Passala Maledetto C'è la palla a tre piedi Passa Vai bravissimo Adesso vuoi passarla grazie Benissimo Ok Bene Ok Ma calma Eh si vabbè io non volevo Darla lì però maledetto Vabbè Fini a primo tempo 0 a 0 Stiamo soffrendo Siamo così Soffrendo Siamo soffrendo anche tanto Abbiamo fatto il stesso numero di tiri ma stiamo Soffrendo Stiamo soffrendo anche tanto Anche tanto Signore Signore Con la calma Con la calma Con la calma Dalla di là Perfetto Ok E si Vabbè mangiati Le antiche canne Però sti cross E perché io carico a palla E il cross Sono a due Allora Perché Cosa è successo Cosa è successo Cosa è successo Cosa è successo No Bravo Radu Bravo Radu Bravo Radu Bravo Radu Manda via sta palla Mandate via sta palla Morda via sta palla Morda via sta palla Oh Ok Lancia In delungo In delungo Spizzala niente Malenetto Di qua Ok Facciamo girare Facciamo girare il pallone Con la calma Ok Bene E non c'è uno che Oh Dai Ok Bail Non è Baili 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 Dai 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 Va un po' meglio Non c'è da stare tranquilli Perché se fanno due gol Si va su due e uno E passano loro per il gol fuori casa Non c'è Ancora Va un po' meglio Va un po' meglio Va un po' meglio Ma non Non abbiamo Non abbiamo Da Non abbiamo Sta concentrato Non abbiamo Fatto niente Ancora Ancora Non abbiamo Fatto niente Ancora Non abbiamo Fatto niente Signori Non abbiamo Fatto niente Dobbiamo Ancora Il grosso Dobbiamo ancora Farlo Porca miseria Qualcuno ci vada Maledetti Mamma mia Bravo Radu Radu ci sta salvando La porta Radu non so In quante occasioni Ci ha salvato La porta A sta partita Non so Dirvi in quante occasioni Non i Non i Manda mia Sta palla Ma malinetto Mia Ok Ok Va bene Ok Faccio un giro Pallone Ok Passala Benissimo Benissimo Vai Mason Vai Mason Perfetto Ok Ma Non Non Vabbè No 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 Dammi Bagaglio Maledetto Dammi No 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 Torsino 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 Raducanu 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 Io Io Raducanu Raducanu Però Però Tettemi Calmi Stiamo molto calmi Stiamo molto calmi 66 Ok Ok No Lancia Non riusciamo più a ripartire Perché Non riusciamo più a ripartire Fanno uscire Neymar Perché fanno uscire Neymar Entra Davis Neymar Fanno uscire Neymar Perché fanno uscire Neymar Per quale motivo Grazie Ringraziamo Paese San Giamè Per aver tolto la più grande Una delle due più grandi minacce La loro squadra Non gli altri Non scherzano Radu ancora Radu ancora Radu ancora Bravo Boris Bravo Poi io dovrei fare dei cambi Mi fa Dovrei fare dei cambi E lì farò Lì farò Lì farò Lì farò Lì farò Lì farò Il metone Metson E' un altro Che è spompato Il morto Però 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 Benedetti Benedetti Due Benissimo Adesso Con tre Loro Facendo tre gol Se loro fanno tre gol Si va Ai supplementari Io devo fare dei cambi Devo fare dei cambi Devo fare dei cambi Devo fare dei cambi Allora Baffetto Ferguson A posto di Benedetti E ci fermiamo qua Però ci fermiamo qua Terzo cambio Aspettiamo Terzo cambio Ah cacchio Terzo cambio Aspettiamo Terzo cambio Aspettiamo Allora Cioè Allora Nel mondo normale Nel mondo normale Del calcio A questo punto La partita Sarebbe chiusa Che dolore Può fare tre gol In un quarto d'ora Però questo è fifa E questo è fifa Sapete Non funziona Con logiche Normali Del calcio E quindi può cadere Qualsiasi cosa Io 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 Non mi sto ancora Tranquillo Non mi sto ancora Tranquillo Anche perché Cominciando a vedere Non mi piacciono Dall'era Bene Ok Mandalo fuori tempo Confondilo Confondilo Benissimo Appoggia di qua Uh Dalla mossa 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 È la chiusa È la chiusa Se segniamo questa A quel punto Sì era chiusa Perché loro Quattro gol Mi sarebbero bastati Avrei potuto farne Cinque Cinque Era Ducano Manda mia Malla Mamma Mia Nonna mia No no Attacca il Paris San Giardino Nella Nella tua Tutto facile Qui Nella Stiamo calmi Stiamo molto calmi Dove cacchio La invia Volevo diralla Sulla fascia Sulla fascia Maledetti Sulla fascia Maledetto 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 E porca Di sedia No 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 Sostituzione Territo Mania fuorigioco Poca anche Comunque Anche tra fuorigioco Radu ha fatto Un altro miracolo Un altro miracolo Ha fatto Radu Io non Non so Veramente Il suo portiere Veramente Ha fatto tantissimo È uno degli eroi Di questa squadra Dobbiamo dirlo Dobbiamo dirlo Oh Comunque 87 Dovremmo esserci Perché insomma Tre gol In due minuti Per recupero Mi pare difficile Anche a me Va bene che Fisca e Siva Ma mi pare difficile Dovremmo esserci Dovremmo Avercela fatta Dovremmo Avercela fatta Dovremmo Avercela fatta Dovremmo Avercela fatta Dai Ce l'abbiamo fatta Signori Possiamo dirlo Ce l'abbiamo fatta Siamo in finale Siamo in finale Di Champions Signori Siamo in finale Di Champions Possiamo dirlo Segnano adesso Chi se ne frega Manda via sta palla Però onestamente Riusciamo a non subire Gol A Perigi Sarebbe ancora meglio Ok Signori Signori Siamo in finale Di Champions Vuol dire che Questa serie durerà Una puntata in più Che finirà Martedì Prossimo Allora Andiamo con questa intervista Signori Andiamo con l'intervista Andiamo con l'intervista Signori No Non si fa intervista Non intervista Dovrebbero intervistare Penso Dovrebbero intervistare Ottimo Per Givana Merita tutti i complimenti Ok La finale Devo ringraziare i ragazzi Ok E' un altro simboletto Avremmo dovuto vincere con più gol Va bene Ok Signori Siamo in finale Siamo Premio torneo 12 milioni Questi Ok Ottimo lavoro Vogel Prestazione autorevole Bene così Signori Mentre Arrivo Al giorno della finale Simulando Questa Con il Craiova Che non so quale finale Viene prima Adesso Intanto Intanto Andiamo Anzi No Aspetta Rosa Scusa Ok Simuliamo la partita Con il Craiova Avanti Tanto Per farlo Niente simbolo Io comincio a salutarvi Vi do appuntamento Alla prossima Che cosa Cos'è Coligio Ricore Parato Sognato Ha segnato Va bene Non so che vuoi Però va bene Comunque 3-1 Col Craiova Gol di Montes Costin E Brozovic Va bene Signori Direi anche Va bene Ora Voglio vedere Ah la prossima Ok 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 Vediamo il calendario Tanto per valutare Ah Una settimana Il Leverkusen Signori Il Leverkusen Finale di Champions Con il Leverkusen Signori Io direi Faccio Un allenamento Così Tanto per farlo A sti ragazzi E nel frattempo Vi saluto Vi saluto Vi do appuntamento Alla prossima puntata Puntata in cui Puntata in cui Ci giocheremo Ci giocheremo La finale Di Coppa in Romania Uno degli obiettivi Uno degli obiettivi Ce lo giochiamo Nella puntata di domenica Mentre Arrivano gli aggiornamenti Spallati Nel osservatore Ormai Non ha neanche senso Stare a guardarli Ormai siamo Siamo alla fine Signore Mentre Si va Verso la partita Verso la finale Di Coppa in Romania Io vi saluto E vi do appuntamento Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.